Il Motor Show 2011 è il palcoscenico scelto dalla casa dei quattro anelli per presentare l'Audi A1 Sportback, versione a cinque porte della compatta tedesca. Sarà lanciata nel 2012 con quattro motorizzazioni benzina e tre diesel da 86 a 185 CV, abbinabili al cambio a doppia frizione DSG e si andrà ad affiancare alla versione tre porte già in commercio, rispetto alla quale offre maggiore praticità. Altra compatta al debutto in Italia è l'Audi Q3, la crossover di segmento C, che si propone come alternativa premium più accessibile alle altre componenti della famiglia Q di Audi ed è disponibile sia con trazione integrale quattro che con la sola trazione anteriore. Completano lo stand due sportive, l'Audi S8, la superammiraglia equipaggiata con un V8 biturbo che può disattivare metà dei cilindri, e l'Audi S6 Avant, che grazie al V8 biturbo da 420 CV, accelera da 0 a 100 in 4,8 secondi.